Sono qui solo per ringraziare tutti i partecipanti, tutti coloro che da anni operano perché questo festival continua a esserci sul territorio di Bustazizia, è una cosa molto importante. Sono contento che c'è perché quando ho visto l'altro giorno una polemica che è successa per Dostoevsky che hanno annullato, ci siamo comportati un po' come Putin, tanto non ci chiamo. E quindi sono proprio contento che questo film festival si fa. Io vi dico la verità, siamo in un periodo, io parlo con un'amministrazione veramente bruttissimo, adesso sto pensando ai bambini che stanno arrivando, oggi ne arriveranno altri 12, ne sono arrivati 10 dal giorno e dobbiamo un attimino sistemarli e farli sentire a casa. Perché non bastava il Covid, perché era poco, quindi una guerra ci stava, giusto che a fermare il mondo un'altra volta. E quindi sono ancora più contento invece che voi non vi siete mai fermati, perché il mondo non deve fermarsi, non dobbiamo assolutamente dargli la vita. Quindi per me, io sono qua proprio a testimoniare questo e a dire appunto grazie per tutto il lavoro che fate, sempre con più difficoltà anche dal punto di vista economico, perché possiamo sempre contribuire meno rispetto a quello che invece meritereste, assolutamente. Per cui grazie doppio, grazie quindi a Pellele, grazie a Alessandro Monario, c'è doppio, e grazie a Steve. Steve ogni volta che viene, vi dico sempre che comincia, ma il periodo è anche il periodo giusto e quindi si va verso il bel tempo e col bel tempo, almeno col Covid, tante brutte cose sono sparite. Ecco, speriamo anche Steve fa di un altro miracolo, si fa di un altro miracolo, si fa di un altro miracolo, si fa di un altro miracolo.